Allora, buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del film Rotter Himmel, Il cielo brucia, titolo italiano, di Christian Petzold, che abbiamo il piacere qua di accogliere, insieme ad Anastasia Plazzotta, per la Wanted Distribuzione. Benvenuto Christian. Allora, scusatemi. Allora, Christian, regista, sceneggiatore, questo film è stato selezionato nella sezione fuori concorso, è qui un'anteprima italiana, è un film prodotto in Germania dalla Schram Film di Berlino, in coproduzione con ZDF e con Arte, e con il sostegno del programma media dell'Unione Europea. Scusate un secondo, ma mi sentite, perché io sento il microfono che va e viene. Ah, ok, grazie. Il film è presentato agli European Film Award con due candidature, miglior lungometraggio e miglior attore protagonista. La sua prima mondiale è stata il Festival di Berlino a febbraio, è stato in competizione internazionale e ha ottenuto il prestigioso orso d'argento, gran premio della giuria. Poi ha partecipato anche a numerosi altri festival e è uscito in sale in Germania nella primavera del 2023 e distribuito anche in altri paesi, Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Canada e sarà distribuito in Italia anche da Wanted, Anastasia Plazzotta, poi ci dirà meglio. Christian, io faccio alcune domande e poi passo la parola al pubblico. Questo è il suo, mi pare, quindicesimo film, ma in questo film il protagonista è al suo secondo libro. Allora mi chiedevo se c'erano state delle risonanze con la situazione che lei ha vissuto nel momento del suo secondo film. Dio, tedesco, dann Translazione, Italiano. Ich konnte mal ein bisschen Italienisch sprechen, das ist aber schon lange her. Ja, ich wollte keinen Film über mich machen, aber während der Dreharbeiten, das war ungefähr der 20. Drehtag, saßen die Schauspieler um mich herum morgens, als wir geprobt haben und dann fragten sie mich, wie so amerikanische Polizisten in einem Verhör, erzähl doch mal von deinem zweiten Film, hattest du auch solche Probleme mit dem zweiten Roman und die Fragen wurden immer bohrender und sie legten dann in mir Erinnerungen frei, die ich eigentlich schon abgekapselt und verschüttet hatte. Und da kam dann raus, dass mein zweiter Film, dass ich mich ähnlich wie der Schriftsteller Leon bei diesem zweiten Film verhalten habe. Ich habe nämlich einen Filmregisseur gespielt, weil ich der Welt zeigen wollte, was für ein ein großartiger Cineast und Filmregisseur ich bin, spielte ich ihn nur so, wie der Leon einen Schriftsteller spielt. Und die Schauspieler lachten und dann fragten sie mich, wie denn mein zweiter Film geheißen hat. Und ich sagte, der Film hieß Cuba Libre und dann lachten sie und dann dachte ich, warum lacht denn ihr hier so und dann sagten sie, naja, der Roman Club Sandwich, wenn man die Schriftbild sieht und Cuba Libre, das sieht sehr ähnlich aus, das könnte ein Menü der Lächerlichkeit sein und deswegen glaube ich, dass da schon einiges Biografische in diesem Film enthalten ist, aber ich wollte das nicht. Now, Italien. Sì, tempo fa riuscivo anche a parlare qualcosina di Italien, ora non più. In realtà non volevo fare un libro, un film su di me. Eravamo al ventesimo giorno delle riprese e gli attori erano lì, facevano delle prove e poi a un certo punto si sono messi quasi come in un film americano dove ci sono questi interrogatori, hanno cominciato a farmi delle domande sul mio secondo film e come l'attore principale che sta scrivendo e alle prese con il suo secondo romanzo, se lo stato d'animo era lo stesso. In effetti mi tartassavano con queste domande appunto sul mio secondo film. In effetti il mio secondo film presenta una situazione simile a quella che sta vivendo il protagonista principale, Leon. Nel mio secondo film io volevo rappresentare la figura del regista che sta facendo appunto un film. Recitavo però appunto come regista. nell'incalzare delle domande degli attori a un certo punto mi hanno chiesto qual era, quale fosse stato appunto il titolo del mio secondo film e io appunto ho risposto Cuba Libre e quindi sono messi a ridere e da lì è emerso che il titolo del secondo romanzo che Leon sta tentando di scrivere è Club Sandwich, quindi mettendo vicino questi due titoli Cuba Libre e Club Sandwich c'è una sorta di similitudine, di somiglianza, quindi poteva essere come un menù dell'onestà. Quindi sì, in un certo senso ci sono degli elementi che riguardano la mia biografia, però non volevo questo. Der roman Club Sandwich, von dem hören wir ja in dem film einige Seiten werden ja vorgelesen und als ich das drehbuch geschrieben habe wurde mir klar wie schwer das ist einen schlechten Roman zu schreiben, von dem aber der Autor glaubt, er wäre ein guter Roman. Das ist eine ganz furchtbare Position. Ich habe Tage zugebracht, um diesen schlechten Roman schreiben zu können und als ich ihn dann geschrieben habe, war ich stolz und als dann bei den Proben die Schauspieler über diesen schlechten Roman gelacht haben und ihn sich lustig gemacht haben über ihn, war ich gekränkt. Und in diesem Moment war ich dem Leon sehr ähnlich. Ich würde sagen. Sì, appunto, il titolo del romanzo di cui si fanno degli accenni nel film è Club Sandwich E si sentono nel film anche alcune pagine dei contenuti del film e emerge durante la mia scrittura del copione, mi ero reso conto, era chiaro, emergeva chiaramente che si trattava di un racconto terribile, brutto, così com'è anche il romanzo. Io da un lato ero anche contento che questo libro fosse così brutto, nelle prove gli attori si mettono a ridere mentre stiamo facendo le riprese, io in quella situazione mi sono sentito quasi preso in giro, quindi mi sentivo arrabbiato nei loro confronti ed è la stessa sensazione che ha Leon nella scrittura del suo secondo romanzo. Io volevo chiederle una cosa rispetto al personaggio che nel corso del film sembra crescere non perché acquista conoscenze ma al contrario perché impara a liberarsi di complicate sovrastrutture, come se dovesse in un certo senso tornare a una semplicità un po' infantile. Allora mi chiedevo se c'era un collegamento tra, intanto se l'intento è questo, e se c'era un collegamento col fatto che è stato scelto un periodo estivo per girare il film. Allora mi chiedevo? Allora mi chiedevo? Allora mi chiedevo? Allora mi chiedevo? che ciò che ciò ricorda, in quel momento in cui ciò ricorda, è il film già finito. E io credo, cosa mi più interessato, è qualcosa che mi piacciono anche a di provo. La Paula ha chiesto, perché mi piacerebbe in un'eckelstypen come questo tipo, che solle le persone che solle le persone interessate, perché mi piacerebbe in un'eckelstypen? in der Geschichte des Kinos niemals für die schönen, freundlichen Helfer, sondern wir interessieren uns für die Einsamen, die Verzweifelten, die Bösen. Wir interessieren uns eher für Robert De Niro in Taxi Driver, der ja nun Faschist ist, als für einen sehr netten Menschen, der uns den Müll aus drei Stockwerken tieferbringt. Das ist das Kino. Und das Kino liebt eben auch schlecht gelaunte, mufflige, auf manchmal bösartige Menschen. Und da sagte Paula, ja, jetzt verstehe ich, was ich an dem interessant finde. Und das fand ich viel wichtiger als eine positive Entwicklung. In Germania ci sono importanti, scusate, riprendo. In Germania gli scrittori si considerano importanti se sono arrivati al loro secondo romanzo. Quindi, gli scrittori importanti che scrivono romanzi, ma sono più importanti se soprattutto scrivono un secondo romanzo. Citiamo Goethe, Lessing, in questi casi. Quindi, l'identità, lo scrittore, l'autore, ce l'ha se è arrivato appunto il suo secondo romanzo. Altrimenti può essere considerato quasi un fallito. Nel film vediamo che l'autore arriva a questa conclusione, ma ormai quando il film è concluso. Per me era anche questo un aspetto interessante, anche durante le riprese vediamo il personaggio interpretato da Paola Beer che si, come se si chiedesse perché devo interessarmi per un tipo così che è quasi potrebbe essere insignificante. Noi nel cinema non ci interessiamo, non vediamo attratti da quelle figure perché sono belle, coronate da successo, ma veniamo attratti dai personaggi che rappresentano di più la solitudine, che sono quasi delle figure disperate, cattive. Pensiamo a Robert De Niro in Taxi Driver. Quindi noi nel cinema guardiamo e cerchiamo le figure cattive, quasi goffe, quelle figure che non sono buone figure. E quindi Paola trova questo interessante e per me era l'aspetto interessante più che l'evoluzione positiva del personaggio. We un vom Krieg zerstörter, un einsamer, un widerlicher, man può dire, Faschist. E' un momento, e il momento è in questo Placato, dove è natalie Wood, che è stato infizietto, quindi per un Faschista, è giusti. In questo momento ne prende lei in den Arm e si guarda. E questo momento, il il momento, il il momento che non è un Faschista, che un Faschista per una seconda è un giusto, è un giusto. È un giusto, è un giusto, non è mai un giusto, non è mai un giusto, ma per questo momento è un giusto. E questo, credo, è in questo Zitat. e questo è anche qualcosa che penso che la storia del Kino è la storia del Kino. Vedo proprio il poster del Torino Film Festival e con la citazione di Jean-Luc Godard, la figura di John Ford. Ecco, posso fare riferimento anche a questa citazione di Jean-Luc Godard, se ho capito bene dal testo, come una persona che è praticamente distrutta dalla guerra, quasi una figura ripugnante, per un unico istante, per un unico momento, quando abbraccia Natalie Wood, che è stata infettata nel contesto degli indiani, ecco, per un unico momento, un unico istante, questa figura fascista ha una possibilità di diventare uomo, solo proprio in questo momento. Ed è appunto questa, credo, la citazione del film, ed è anche quello che il cinema fa, la storia del cinema. Anastasia, ci vuoi dire qualcosa su questa distribuzione? Sì, con molto piacere, innanzitutto, si dice sempre, no, una frase fatta, siamo molto orgogliosi di... In questo caso è vero, cioè, è vero più che mai. Abbiamo tra le mani un gioiello che dobbiamo curare, preservare, portare nelle sale nel migliore del modo. Ci tengo molto a dire che non abbiamo selezionato questo film perché ha vinto il premio di Berlino, ma l'abbiamo scelto prima, e quindi per un'adesione totale, completa, col film, che corrisponde alla nostra linea editoriale, in tutto, che sapete, noi siamo il cinema ricercato, non c'è nulla di più ricercato di questo gioiello di Cristian, che sono molto contenta di portare in sala. Uscirà proprio adesso il 30 di novembre, cominceremo con 30 sale. Come sapete non è un periodo semplice per trovare degli spazi, abbiamo scelto quindi coraggiosamente di uscire in un momento in cui la gente va tanto al cinema, ma ci sono anche tanti film che vengono proposti continuamente. Quindi spero che anche grazie al vostro aiuto, se ne parli, e che quindi le 30 sale possano presto diventare 40, 50 e che questo film abbia una lunga vita al cinema. Non speriamo. Ci sono domande? Federico Leonetti, Cine Dams. Nel suo film precedente c'era questo legame tra acqua e destino, e in questo film invece c'è il legame tra destino, almeno come l'ho visto io, e fuoco. Volevo sapere qual è il ruolo della predeterminazione nei suoi film. Qual è il ruolo della predeterminazione nei suoi film? Qual è il ruolo della predeterminazione nei suoi film? Qual è il ruolo della predeterminazione nei suoi film. Io ho visto molte cose, che erbbero male, ma c'era qualcosa, dove ho pensato, c'è stato l'eserciato. Man steigt aus dem Auto aus e non c'è niente più, non c'è niente, 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 non c'è niente più. So, ich habe mir, als ich da so dachte, war, ich schrieb gerade an dem Drehbuch und da war noch kein Waldbrand in dem Drehbuch, das gab es noch gar nicht, es gab eigentlich nur einen Sommer und junge Leute, junge Menschen. Als ich dieses Waldbrandgebiet gesehen habe, da waren meine Kinder dabei, die im selben Alter sind wie die Protagonisten und die sagten dann zu mir später, kann ja sein durch die Klimakatastrophe, dass es keine Sommer mehr gibt und keine Wälder mehr und auch kein Meer mehr und keine Fische mehr und es ändern sich doch dadurch die Geschichten, oder? war die Frage an mich und das ist eingegangen wie eine Determination in das Drehbuch schreibe und auch in die Inszenierung. Non è proprio un grande ruolo che giochi nel film, ecco, il cielo brucia. Nella mia vita ho avuto però l'occasione di vedere incendi delle foreste, una cosa che non avevo mai visto prima, così terribile, incendi in Turchia. Avevo visto altre situazioni brutte, pesanti, negative, però questa degli incendi boschivi è stata davvero la più terribile. Si scende dall'auto, non si sente più nessuna voce, non ci sono insetti, non si sente vento, non ci sono animali e anche parlando con un guardia boschi in quella situazione diceva qui non crescerà più nulla, non ci sarà più nessuna foresta perché il fuoco è penetrato, è entrato in profondità nel terreno. Io stavo scrivendo, stavo lavorando alla sceneggiatura e non c'era l'elemento degli incendi boschivi delle foreste nel testo, c'era più l'idea dell'estate, dei giovani. Parlando con i miei figli che più o meno hanno l'età dei personaggi che vediamo nel film, sono arrivati ad affermare che se la catastrofe climatica continua in questo modo, dopo aver visto quelle terribili scene, non ci saranno più estate, non ci sarà più il mare, non ci saranno più foreste. e quindi come cambierà la storia. Quindi questa forse è stata l'intenzione di inserire la determinazione nella messa in scena, nel film. I would speak German. è il film dann pessimistico o spiegelo di la Wirklichkeit di tutto, ciò ciò che ciò che vi auguro fa? E' il possibilità di essere di uscire, daqui non ciò che inizia non ciò che inizia, ciò che inizia non ciò che inizia, ciò che inizia, ciò che inizia, ciò che inizia ciò che inizia non ciò che inizia, ciò che inizia, e una possibilità per noi di aiutare. Quindi non solo come il cinema parla di giovani, si rivolge ai giovani, fa parlare ai giovani, ma se c'è anche questa compassione, questa volontà di intraprendere un qualche cosa di buono per i giovani, di sentirsi in sintonia con i giovani. Sì, la qualità della compassione non è solo nel film. Ma forse dovremmo utilizzare questa compassione, questa empatia tra di noi, reciproca, appunto per arrivare e riuscire a salvare il futuro. Per darvi la risposta forse ci impiegherò un bel po' di tempo, ma vediamo di riuscirci. tabula rasa machen wollen, dass sie die Komplexità und die Feinheiten und die Schwierigkeiten unserer Welt, die dauernd ausbalanciert werden muss, dass sie die Schnauze davon voll haben und Schluss machen wollen. Also so eine Serie wie The Walking Dead hat fast Lust, dass endlich Schluss ist, dass es einfach nur bescheuerte Zombies gibt, die man abknallen kann und dass die Welt fast wieder ordentlich wird. Und das hat mir, da habe ich gedacht, nee, das Kino ist eigentlich das Medium, in dem die Welt gefeiert wird und nicht zerstört wird. Und das Kino ist so reich an Sommerfilmen, Liebesgeschichten, Komplexitäten, Trauer, Trost, dass ich dachte, ich mache jetzt einen Film, wo der Sommer nochmal so richtig zeigt, was er drauf hat. Diesem Film gibt es keine Filmmusik, sondern nur Musiken, die die Protagonisten hören. Sie tanzen dazu, sie feiern dazu. Und diese, ich finde, diese Komplexität, die, wo das Kino nochmal feiert, wie schön das Leben ist, das ist die einzige Antwort, die ich darauf geben kann, auf die Frage. Diese Komplexität, Entschuldigung? Diese Komplexität ist die Schönheit. Ja? Potremmo avere, sì, la sensazione che negli ultimi decenni il cinema abbia questa voglia di rappresentare, di far pensare al declino del mondo, quasi proprio una nostalgia di distopia con presenze di carattere di fascismo, quindi di fare proprio una completa tabula rasa di tutto quello che è la complessità del mondo per ritornare a un ribilanciamento del mondo. Se pensiamo per esempio a The Walking Dead, tutto deve essere finito, tutto deve essere distrutto per poter rimettere a posto questo mondo. io credo che il cinema debba presentare un mondo che festeggia, non un mondo che è distrutto, deve far vedere le storie d'amore, deve far vedere il lutto, la consolazione, io in questo vedo il mio fare film e anche nelle musiche che sentiamo non sono come una vera e propria colonna sonora, ma sono quelle musiche che i personaggi sentono ed è questa complessità che fa la bellezza. Grazie Cristian, ci dobbiamo fermare qui, grazie Anastasia e grazie per la traduzione Daniela Passarini. Buon festival! Buon festival! Bye bye! boots Stop! Ciao Law